Ultimi di tocchi alle liste, piccoli effetti sorpresa che potrebbero alterare e modificare degli equilibri locali. Ed allora ecco che secondo indiscrezioni i piccoli di tocchi sarebbero in corso nella lista di Forza Italia. Il posto lasciato in caldo per Antonio Barba, infatti, potrebbe essere occupato dalla consigliera comunale di Squinsano, Simona Piccolo. Trattativa portata avanti in modo serrato e personale proprio dal sindaco Gianni Marra, uomo vicinissimo al candidato Paide Mazzotta. Una trattativa avviata in seguito all'ufficialità della doppia preferenza. La candidatura della Piccolo però, oltre a rafforzare Mazzotta, andrebbe ad indebolire il lavoro di Mino Miccoli, candidato nella lista della Lega che potrebbe vedere indebolita la sua roccaforte. Nessuna conferma sulla Piccolo però arriva dall'onorevole Mauro Dattis, che rimanda a ogni comunicazione ufficiale al prossimo martedì. Intanto torna in campo a sostegno e per amore di fitto anche Damiano Dautilia, già assessore della Giunta Perrone, che secondo fonti certe avrebbe firmato in quest'ora la sua candidatura nella lista Udc. Fino a ieri l'ex assessore Dautilia sarebbe stato al fianco di Antonio Raone, candidato con Emiliano, ma sarà stato l'effetto dei sondaggi che vede il centrodestra in vantaggio o la stima per il candidato presidente? Fatto sta che Dautilia avrebbe scelto di cambiare strada e mettersi in corsa per il centrodestra.